In prossimità delle festività natalizie vediamo qui alla fiera del giovedì come vanno le cose, come si prospetta l'economia mercatizia. Sì, bene, grazie. Nel mercatino ci troviamo bene, qua a Battipaglia, giovedì, facciamo un grande, bellissimo mercato. Il rapporto qualità-prezzo va bene? Sì, i prezzi sono convenienti, la gente vengono a comprare e noi ci troviamo bene, grazie. Come procede questa vendita natalizia? Ci sta un po' di gente in più che spende pure, non è che, e questo è Natale, spende un po' con la gente, ma è più qualità, il prezzo non, perché se lo devono comprare a basso prezzo, poi vanno a casa e lo buttano, non va bene. Natale è alle porte, quindi la fiera del giovedì continua ad essere così, ricca di gente, qua per trovare un parcheggio oggi ci abbiamo messo tanto. Le cose vanno bene, si lavora, però quello che avete detto, il parcheggio è un grosso problema, specialmente il mercato di tutti i giorni, l'è diventato impossibile parcheggiare. Tant'è vero, un signore due settimane fa mi ordinò della roba e poi non ha potuto venire, mi ordinò il pane, dice io ho girato tre, quattro volte con la macchina, Carmina mi dispiace, ma io non c'è parcheggio, io non posso venire, è diventato proprio un grosso problema. Prezzo e qualità, c'è stato qualche piccolo aumento su alcuni prodotti, ma non su tutti, i prodotti sono rimasti, parecchi prodotti invariati, il prezzo è rimasto invariato, tipo parmigiano, grano e altre cose, non è aumentato niente, grano e parmigiano zero come aumento, altri prodotti c'è stato un po' di qualcosa, questo è tutto. Grazie a tutti.